Vi ricordo che al termine della conferenza stampa ci sarà la presentazione del libro What Happened to Serie A dello scrittore americano Mendis, quindi questo avverrà dopo. Intanto, prima di iniziare la conferenza stampa, lascio la parola a Mr. Di Francesco per un doveroso ricordo della signora Maria Sensi. Oggi per me è un giorno triste, sotto tutti i punti di vista, perché è scomparsa una persona a me cara, una seconda mamma, una persona a cui ero molto vicino, a lui e alla sua famiglia. Per quello mi unisco al grande dolore della famiglia Sensi e della sorella Angela. È un bellissimo ricordo, anche perché ci siamo visti anche ultimamente a cena. Per quello oggi è una giornata triste per me e per tutti i romanisti, perché lei era veramente una grandissima romanista. Possiamo iniziare con le domande. Paonessa, Roma TV. L'anno scorso, nella sua prima stagione alla Roma, dopo la sosta, il pareggio contro l'Atletico e cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Quindi di fatto la squadra iniziò a volare. È questa una squadra che ha bisogno inizialmente di carburare, di un po' di tempo per carburare o non ci sono analogie con la passata stagione? Fa forse un po' il mio modo di lavorare col tempo. Anche la metodologia ci ha portato a non sempre partire in maniera forte e poi guadagnare col tempo metri, risultati. Sicuramente ci saremmo tutti quanti augurati di aver avuto qualche punto in più. Questa è la cosa più importante, che è quella che poi determina poi determinati giudizi. Però sono convinto che siamo sempre in tempo, perché siamo solo alla terza giornata e che ho tutta la Champions davanti, di poterci riprendere quello che abbiamo lasciato nell'ultimo periodo e nel periodo iniziale per strada. Buongiorno, il Chievo alla prima giornata ha messo in difficoltà la Juventus. Domani che partita si aspetta? Ha fatto anche un ottimo primo tempo contro la Fiorentina, poi il risultato ha detto tutt'altro. Per noi è una squadra abituata a questo campionato, nonché un meno tre in classifico, perché quello avrà la determinazione e il desiderio di venire qua e portare a casa un risultato positivo, ma noi non possiamo non ragionare per i tre punti, assolutamente. Quella è la prima di un ciclo di partite importantissime, ma credo che sia quella più delicata e quella che ci potrà dire e nello stesso tempo dare tante indicazioni anche a me. Mangiante, Sky Sport. C'erano 13 nazionali in giro per il mondo in queste due settimane, questa sosta cosa ha dato? Cosa ha tolto, se ha tolto qualcosa alla Roma? Ha tolto la possibilità di poter lavorare con questi ragazzi, cercando di andare a rimediare un pochino alle difficoltà che abbiamo avuto in questo inizio del campionato, specialmente su quella che è l'applicazione di una pressione, di un lavoro difensivo in cui la squadra non è stata sempre lucida o perlomeno ha regalato due tempi nelle ultime due partite. Ma nello stesso tempo tanti giocatori hanno avuto la possibilità di mettere tanti minuti nelle gambe e credo che questo sia positivo dal punto di vista specialmente fisico e qualcuno che ha fatto anche gol dal punto di vista mentale, che è tornato con maggiore carica e voglia di dimostrare il proprio valore anche qui alla Roma. Sono rimasti qui sia De Rossi che Florenzi, Florenzi ha avuto quel problema al ginocchio, De Rossi qualche problemino muscolare, ci può dare un aggiornamento sulle condizioni? Sono entrambi recuperati, quasi sicuramente Florenzi giocherà dall'inizio, mentre De Rossi doveva decidere se giocherà lui o Zonzi nel ruolo di metà campo. Ha saltato un allenamento e mezzo, ha avuto qualche problemino però ed è tutto recuperato. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno, volevo fare un focus sui giovani, visto che lei ne ha già lanciati parecchi nella sua carriera di allenatore. Visto che in settimana lei comunque ha parlato ai giocatori e ha chiesto una maggiore spensieratezza, se può essere arrivato magari il momento di vederne qualcuno tra Klaivert, tra Cioric, lo stesso Zagnolo, forse di cui anche lei si è sorpreso per la convocazione nazionale, immagino. Ma io più che dispensieratezza ho parlato di entusiasmo e desiderio di avvicinarsi alle partite in un certo modo, senza guardarsi troppo attorno a quelli che sono indicativamente i giudizi o quello che spesso noi non aiutiamo i giovani nella propria crescita, la possibilità di poter sbagliare. Questi ragazzi devono avere la possibilità di poter sbagliare per poter migliorare. E credo che noi abbiamo tanti giovani che faranno partite di alto livello e altre di meno. Ma questa è la normalità e fa parte di un percorso di crescita. Io avendo tanti giovani chiedo loro di giocare con maggiore serenità, cercando di mettere solo in campo quelle che sono le proprie qualità o caratteristiche. Ovviamente preparando la partita mentalmente nel migliore dei modi. Pastore, il Romanista. Buongiorno. Nell'intervista rilasciata al Romanista, De Rossi si è mostrato molto fiducioso, parlando di gruppo forte, sano, che non ci sta a farsi mettere sotto. E aggiungendo che se la Juventus viaggia su un altro binario dal punto di vista economico non vale lo stesso per il campo. Lei è d'accordo con il suo capitano? Sono d'accordo, anche se il campo ha detto anche che la Juve è più forte in campo, perché ha nove punti, e noi dobbiamo essere bravi a rimettere le nostre cose a posto, cercando di capire che la Juve non è che è di un altro pianeta oggi, e vince da diversi anni, lo ha dimostrato concretamente con i fatti. Noi dobbiamo sicuramente recuperare terreno, ne abbiamo le possibilità, ritrovando determinazione, cattiveria, quello che un po' ci ha contraddistinto nel momento anche difficile della Roma dell'anno scorso, come ce ne saranno, mi auguro, pochi, o altri pochi momenti così negativi, e nello stesso tempo andarsi a riprendere quello che abbiamo lasciato, quello che ho detto un po' prima, perché lo condivido pienamente questo, quello che ha detto il capitano. Austini, il tempo. Buongiorno, volevo chiederle se sta pensando di tornare al 4-3-3 dopo gli esperimenti, i cambi che ha provato a fare nelle prime partite, se la freschezza mentale di qualche giovane, mi viene in mente, Klaivert, Cioric, Zaniolo, in momenti come questi possono magari essere delle risorse, come è stato Under lo scorso anno a un certo punto? Guarda, sul discorso dei giovani, credo che è sempre un'arma a doppio taglio, no? Se magari ne lanciamo qualcuno e fa male, l'abbiamo bruciato. Oppure, sono delle rotazioni molto delicate da fare, anche il momento della squadra. Vi dico che ad oggi, esempio, nei due ruoli di Mezzala, si giocano il posto per domani Zaniolo, Pellegrini e Cristante. E parliamo di tre giovani che due giocheranno sicuramente. Perché con l'impartenza, state certi, farò giocare due giovani. Ma lo dico perché credo che abbiano le caratteristiche per poter giocare in un certo modo vicino a Zonzi o a De Rossi, quello che deciderò domani. Ma detto questo, abbiamo parlato un po' troppo di sistemi di gioco e di esperimenti. Lo so, fa parte un po' del giochino e io mi ci butto dentro insieme a voi. Sono passate tre partite, abbiamo fatto una partita e mezza abbondante, il 4-3-3, tra cui una giornata, un mezzotempo è stato, non dico disastroso, ma quasi. E poi siamo andati, ho cercato di dare quello che non mi è riuscito, punto. E l'avevo detto già in conferenza che se fosse andata male sarebbe stato un discorso di lasciare il tempo che trova. Sicuramente in questo momento devo ridare, io in primis, più certezze possibili alla mia squadra. Quello, la possibilità di tornare, di tornare. Qualcuno ha scritto all'antico, perché magari erano dieci partite che giocavamo con un sistema di gioco differente. Però l'esasperazione a noi piace, siamo dei maestri nell'esasperare le cose. Io le esaspero in campo quando voglio far passare un concetto. Per quello posso anche capire. Valdiserri, Corriere della Sera. Buonasera. Allegri ha detto poco fa che cercherà il più possibile di non utilizzare i calciatori che hanno fatto due partite in nazionale. Lei in questa situazione, mi pare, abbia Dzeko, Manolas e Under. Vale anche per lei questo discorso, cioè quello della terza partita che è sempre quella più difficile? O pensa che questi qua, questi tre, possano tranquillamente domani fare la terza? Beh, è un po' differente perché magari hanno giocato prima. L'unico che ha giocato un pochino più tardi è stato Edin Dzeko che è arrivato in ritardo rispetto agli atti. Però questa è una valutazione che ho fatto. Mi sono confrontato con quei ragazzi. Le ho viste tutte e tre motivatissime e pronti a poter giocare anche da domani. Per quello ti posso assicurare che potrebbero essere tutte e tre della partita. È ovvio che quello che hai sottolineato in questo momento è una valutazione che farò a seguire per la terza partita, magari dopo quella di Madrid. De Angelis, Rete Sport. Salve. Per quanto riguarda il centrocampo, Lorenzo Pellegrini è un calciatore che lei conosce benissimo. Con il fatto che adesso alcuni giocatori di personalità sono andati via, come Nangolan e Strootman, ci si aspetta qualcosa di più dal punto di vista caratteriale e poi anche in campo, da uno come Lorenzo Pellegrini, che lei conosce bene e che soprattutto è un romano cresciuto qui e quindi molto anche attaccato alla realtà di Roma. E questo non lo aiuta? O lo aiuta? Punto di domanda. A me è una domanda. Non è una volontà di aiutare o non aiutare il giocatore. Ma voi fate tante considerazioni quando volete. Per quello potevi anche rispondermi. Dico che va aiutato sicuramente in questo momento, in cui magari non ha fatto benissimo con noi, non ha fatto benissimo in nazionale, però dal mio punto di vista ha grandi potenzialità. Ed è un prospetto importante non solo per la Roma, ma per il calcio italiano. Per quello è un giocatore che io conosco, come hai detto tu benissimo, e sono convinto che alla fine il suo valore verrà fuori. Facciamo l'ultima trinca delle radio stelle. Salve, mister. Scicca ha segnato in nazionale un gol bellissimo prima di avere quel problema fisico. Le chiedo se per domani è pronto, anche per giocare dal primo minuto, e se le chiederebbe qualcosa in particolare qualora dovesse scendere in campo da titolare. Domani giocherà a Gieco, perché lo Scicca non giocherà dall'inizio. E allora non gli chiederò niente in particolare quando scenderà in campo, gli chiedo sempre tante cose in allenamento e magari se dovesse entrare a partita in corso. Detto questo, è stato anche lui fermo un paio di giorni perché aveva un problemino a una gamba, è rientrato nella nazionale, di fatti l'ultima partita non ha giocato. Però per il resto il giocatore sta crescendo, sta meglio, ed è un altro giovane di quelli che stavamo dicendo prima, che vale un po' per Lorenzo Pellegrini, che devono ritrovare quella serenità sempre quando scendono in campo, che però è normale che quando giochi in certe piazze devi avere anche una forza caratteriale nella frontale. E penso che Patrick sia increscendo da questo punto di vista rispetto anche all'anno precedente. Grazie a tutti. Vi ricordo la conferenza di presentazione del libro. Giusto il tempo di cambiare il setup del desk, sta arrivando anche il Direttore Generale Baldissoni. Grazie. 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 Grazie.